Allora, Rossana dice, speriamo, pronta per l'ultimo appuntamento, ultimo, speriamo di no, vediamo, vediamo ragazzi, vi dico tutto dopo. Allora, eccomi. Allora, arrivo dall'altra parte così mi vedete, spero mi sentiate anche bene, ok? Quindi nel caso fatemi sapere, partecipo a tutti i corsi, dice Veronica, finalmente sono riuscita a partecipare a una diretta. Arrivo dall'altra parte. Allora, eccomi qua. Ci siamo di nuovo, siamo di nuovo insieme. So, welcome or welcome back. Benvenuti o bentornati. Come vedete un pochino di cose si stanno evolvendo e vedrete che piano piano ci saranno nuove sorprese. Per voi, sto lavorando a un po' di progetti. Allora, come cominciamo questa diretta oggi? Innanzitutto vi dirò, per quanto riguarda il modo in cui continueremo, vi dirò tutto a fine lezione. Non voglio dire tutto al principio, altrimenti poi la lezione comincia a diventare troppo mentale. Che cosa succederà? Magari qualcosa vi piace, qualcosa non vi piace e cominciate a mettere lì tutto quanto nel calderone dei pensieri. Invece no. Ci dedichiamo proprio alla pratica. Ok? Come vedete, il colore del mio tappetino è cambiato. Tra l'altro questo è uno dei miei colori preferiti, quindi mi piace tantissimo. Come saprete, ne ho parlato le scorse volte, negli scorsi giorni, è un tappetino che mi è arrivato della marca che poi vi ho consigliato anche. Ho voluto provarlo e mi piace molto. Quindi ancora c'è qualche dubbio, tappetino sì, come se non avete il problema del dolore al sacro, eccetera, io vi suggerisco fortemente un tappetino più basso. Questo è da 0,4 mm. Se invece avete dolore, tappetino più spesso da un centimetro e mezzo, quello che vi ho messo lì, oppure uno che vi piace. Ok? Quindi, sono molto soddisfatta. Ha un grip molto buono, non mi scivolano le mani. Il tappetino non scivola sul pavimento, almeno su questo in legno. Quindi sono molto, molto soddisfatta. Finora mi è piaciuto molto allenarmi. Oggi ho cominciato. So, I was just talking about the math and other not really important things. Allora ragazzi, oggi la lezione la dedichiamo all'elemento acqua. Nel frattempo io sto chiacchierando in modo tale che qualcuno che magari è in ritardo possa arrivare. Ma tra un paio di minuti iniziamo. Elemento acqua. Vi ho inserito anche nella descrizione della diretta una playlist che a me piace tantissimo. L'ho ascoltata proprio oggi pomeriggio prima di prepararmi per la diretta perché mi rilassa, mi piace tanto. L'artista si chiama David Darling e la sua musica l'ho usata tante volte nelle mie lezioni perché proprio mi rilassa, mi accompagna, mi ispira anche. Perché purtroppo io non posso ascoltare musica durante le dirette. Sarebbe molto bello riuscire ad avere un sottofondo musicale per ispirarmi, lasciarmi ispirare anche ma non si può fare. So just for my English audience, I want to say that I suggested a playlist on Spotify in the description of the live stream. And the author is David Darling, it's a solo player. And you can try if you want to practice with that music. E' un violoncellista, quindi troverete questi suoni molto belli. Tra l'altro è un album proprio dedicato alla meditazione, al rilassamento, quindi io lo amo molto quell'album che vi ho suggerito. La lezione, come vedete dalla distanza dell'inquadratura, ormai dovreste essere pratici. Sarà in piedi, si svolgerà e comincerà in piedi. E cosa vi fa pensare? A cosa vi fa pensare l'elemento acqua? Quindi questa è una cosa molto interessante. Come riesco ad interpretare una lezione? In base a che cosa? E su cosa mi ispiro? A me l'acqua fa pensare alla fluidità, che mi piace molto. Mi fa pensare alla freschezza, quindi a qualcosa di fresco, di piacevole, di rigenerante, rinfrescante, proprio per la mente, per la pelle, per le idee, per i pensieri. E poi, l'altro giorno ne discutevo, ne parlavo con la regia, anche qualcosa che, giustamente come mi dicevano dalla regia, qualcosa che prende la forma del contenitore in cui si trova. Quindi qualcosa che si adatta, riesce ad adattarsi e non rimanere rigido nella forma. E queste sono un po' le qualità su cui è bello per me lavorare, a cui mi ispirerò per questa lezione. Prima di cominciare stavo pensando a qualcosa, ma come sapete io non preparo mai completamente le lezioni, soprattutto quando mi alleno insieme a voi, perché mi piace proprio che nasca anche qualcosa di spontaneo. Quindi, a parte qualche ispirazione, non preparo mai nel dettaglio le lezioni. So, just briefly in English, today the lesson is inspired by the element of water. And for me, water represents something fresh, fluidity, and also something that is able to adapt, to take the shape of the container, so to be in a way resilient also. So, this is the aspect that I will maybe introduce in the lesson today. Naturalmente, tutti gli elementi precedenti saranno parte di questa lezione. Un'ultima cosa vi dico e poi davvero iniziamo. Perché ho scelto questa foto? Questa foto l'ho scattata, tra l'altro è molto famosa perché questa inquadratura l'avete trovata forse sullo schermo di Windows tante volte, eccetera. Questa foto l'ho scattata quando sono stata negli Stati Uniti a trovare un mio amico. Il posto si chiama Antilope Canyon, come antilope. E perché, anche se i colori ricordano un pochino il fuoco o la terra, perché ho scelto questa foto? L'ho scelta perché questo canyon, ovviamente per il fatto stesso di essere un canyon, ma comunque questa forma in particolare, le sue forme in particolare sono bellissime, vi invito ad andarlo a guardare magari su Google, sono state scavate dall'acqua. Quindi l'acqua con la sua potenza e con il suo fluire ha creato la forma di queste rocce che si sono modellate secondo i vortici dell'acqua che scorreva qui all'interno. Quindi è terra, ma c'è l'acqua come elemento creativo di questa forma, di questa struttura. Per questo ho deciso di condividere con voi questa forma, che mi è piaciuta molto, moltissimo. È stato un viaggio veramente magico. Quindi, credo che siate arrivati tutti. Nel frattempo io mi leggo i capelli per iniziare. E che dire, siamo pronti. Ci alziamo in piedi. So stand up! E comincia a sentire in piedi il modo in cui stai toccando oggi il tappetino. So start to feel the way you are touching the floor with your feet today. Comincia a sentire ciò che puoi ammorbidire. Senti se puoi togliere tensioni dall'addome, dal pavimento pelvico, dallo sguardo. So feel if you can remove or reduce the tension in your abdomen, in your pelvic floor, in your eyes. E cominci ad oscillare in avanti e indietro sui tuoi piedi. Start to oscillate forward and backward on your feet. E senti che questo movimento mano a mano si distribuisce in te oltre che nelle piante dei piedi. So feel the distribution of this movement in you and in the soles of your feet. Torna al centro e poi ti muovi verso destra e verso sinistra. Ritorna al centro e comincia a muoverti in avanti poi da un lato poi indietro e di lato comincia a disegnare una sorta di cerchio nel modo in cui tocchi il pavimento e sposti il peso. So start to draw some sort of circle in the way you are touching the floor and then change, reverse the circle. Cambia il senso di rotazione. Poi fermati al centro sali sull'avampiede lift your heels from the floor and go back to the floor with the heels. Torna giù con i talloni. Ancora una volta sali sull'avampiede solleva i talloni da terra e scendi. Andiamo ancora per tre sali e scendi continue two more due e scendi l'ultimo rimani su scendi con il tallone sinistro solleva il destro e alterna so alternate your heels one is going down and the opposite knee is bending ora rimani con il tallone sinistro giù e lascia andare il fianco leggermente in fuori lasciando che il busto possa inclinarsi in avanti e poi fai la stessa cosa dall'altro lato lentamente so the next time you are with one heel on the floor leave freedom to the side of your pelvis to move to the side and go a little bit forward with your chest and trunk continua e muovi quindi lascia andare il bacino indietro e di lato senza forzare ovviamente se hai dolore riduci l'ampiezza del movimento if you feel pain or discomfort just reduce the range of the movement as always respira breathe ok torna con tutti e due i talloni giù fletti le ginocchia e distendi bend your knees and stretch them again keeping the heels on the floor quindi rimani con i talloni nel pavimento respira rilassa le mani breathe and release the hands and the fingers rimani giù solleva i talloni distendi e poggia fletti talloni distendi e poggia so you bend your knees lift the heels stretch the knees and down with the heels and continue e mano a mano senti che questo movimento non ha più confini netti tra una fase e l'altra è come se non smettessi mai di muoverti come se disegnassi proprio una sorta di ruota di cerchio rendi opposto il movimento quindi reversibile sali prima fletti poggia e ritorna su so now reverse the direction of the movement sali fletti talloni e stendi sali fletti talloni e poi comincia a rendere sempre più fluido questo movimento in modo tale che non si percepiscano i confini netti tra una fase e l'altra so start to move in such a way that you don't interrupt the movement in any of the phases ok rimani qua inspira porta sulle braccia verso il soffitto espirando scendi di nuovo inhale you bring your arms up to the ceiling exhale down ancora uno inspira espirando scendi lascia andare la testa giù so leave the head to the floor bend your knees and roll down fletti le ginocchia e arrotola giù la colonna lascia andare la testa inspira mentre sei giù espirando spingi nei piedi per ritornare su srotolando una vertebra dopo l'altra so come back roll up one vertebra after the other ancora una volta espirando srotola giù arrotonda la colonna lascia che la parte posteriore di te diventi più lunga e ritorna so you do the same one more time espira rimani giù poggia le mani sul tappetino o sul pavimento davanti a te fletti di più le ginocchia e distendi so again stay there put your hands on the floor and bend and stretch the knees without losing the contact with the floor so your hands and your feet are touching completely the floor non distendere completamente le ginocchia se non puoi don't stretch your knees completely if you can't ok srotola su mantenendo le ginocchia leggermente morbide roll up keeping your knees slightly bent soft allunga le braccia di lato open your arms to the side da questa posizione scorri con le tue braccia parallele al pavimento verso sinistra porta il tuo torace con te e poi ti muovi dall'altra parte so you want to slide with your chest to the right and to the left keeping your arms parallel to the floor respira le tue braccia rimangono parallele qualcos'altro si muove nel tuo torace nelle scapole nella colonna continua quando sei di qua a sinistra rimani so keep the position to the left ruota il palmo delle mani verso l'alto allunga come se volessi raccogliere qualcosa e fletti verso destra so go and side bend to the right ok da qui fletti in avanti arrotonda la colonna arrotonda le tue articolazioni delle gambe delle ginocchia e vai dall'altra parte side bend to the other side passing through the center e di nuovo arrotonda il centro e passa da una parte arrotonda il centro passa dall'altra parte continue passing through the center hugging the ball an imagery ball and then side bend to one side and the other tutte le volte che vai da una parte all'altra senti cosa puoi invitare nel movimento il bacino le coste il respiro fermati sulla destra e dalla mano ritorna su e ritorna nella posizione in cui eri per flettere dall'altra parte verso sinistra so go to the other side side bend on the other side e l'ultima volta fletti in avanti again bend forward to the side and forward to the left stay to the left riporta su spingendo dai piedi e muovi di lato so go to the side to the right side this time with your arms ritorna al centro rimani qua rilassa il collo stay in the center release your neck sali sull'avampiede rimani stay up with both your heels rilassa i pollici le dita delle mani release your thumbs the fingers e piano ammorbidisci i gomiti per scendere con dolcezza so bend your elbows and go down really gently and then you go down also with the heels metti i talloni anche a terra fletti le ginocchia adesso mi giro di profilo così si vede meglio so stay there and from the position where you are imagine that you have a wall in front of you immagina di avere una parete davanti a te e vuoi toccare questa parete che più o meno si trova diciamo a 10 cm di distanza da te con la fronte poi con il naso poi con la bocca so you want to touch this wall in front of you with the forehead nose mouth and then with the chest continua con il petto poi con l'addome rilassa l'addome qua poi con il bacino nel frattempo la testa è tornata indietro e ritorna so you want to touch until the pelvis and then start again disegna una sorta di onda immaginando di toccare la parete davanti a te con diverse parti del tuo corpo so imagine to do this sort of wave touching the wall in front of you with different parts of your body ammorbidisci senti la mobilità nelle vertebre scapole respira keep breathing ancora due two more l'ultimo ok the last one ritorna al centro inspirando porta su il braccio sinistro contemporaneamente la gamba sinistra si incrocia dietro la destra so go with the left leg behind the right one and go to the right side with the arm left arm quindi crea una curva verso sinistra il peso è sulla gamba destra so the weight is on your right leg slide with the leg left leg and with the arm bene da questa posizione comincia ad andare giù so start to become round you go down cerca il pavimento con le mani ruota con il piede verso sinistra poggia le mani a sinistra stacca la gamba da terra sinistra so lift your left leg and go to the left with your hands and with your foot rimani in questa posizione fletti il ginocchio di base bend your knee that is on the floor the foot that is on the floor stacca le mani da terra appena appena e rimani in equilibrio so go with your fingers a little bit far away from the floor lift the fingers from the floor rimani allunga la schiena poggia le mani poggia il piede di nuovo dietro di te e ruota di nuovo verso la parte frontale so roll again to the front and then come back in the same initial position stessa posizione iniziale e piano dalla mano ritorna su spingi sul piede di terra torna e fai la stessa cosa dall'altra parte you do the same on the other side so right leg that is going behind the left you side bend to the left e di qui fletti in avanti quindi vai in avanti rotonda cerca il pavimento so start to go to the floor find the floor with your hands turn to the right ruota verso destra stacca la gamba destra da terra so this time you have your right leg up fletti leggermente il ginocchio sinistro stacca le mani da terra so lift the left sorry bend the left knee and lift the hands from the floor allunga la schiena rimani poggia entrambe le mani giù poggia la gamba e vai di nuovo nella stessa direzione nella stessa posizione iniziale go to the initial position spingi sulla gamba di terra per tornare e usa il braccio come back with both feet on the floor ok da questa posizione spalle indietro disegna cerchi indietro con le spalle so draw some circles with your shoulders backward l'ultimo e comincia a ruotare da una parte all'altra con il busto so start to roll from one side to the other with your trunk and distribute this movement to the whole body distribuisci questo movimento a tutta te stessa a tutto te stesso fino a sentirlo nei piedi nelle gambe nello sguardo lascia le braccia come se fossero delle corde appesela so leave the arms like ropes ok torna al centro inspira su le braccia inhale up with your arms e vai verso destra side bend to the right side bend to the left and again to the right di nuovo sulla destra da questa posizione ancora una volta fletti le ginocchia bend your knees go to the front vai al centro abbracciando una palla attenzione adesso vai a sinistra quindi fletti a sinistra ma da qui ruota il busto verso sinistra in modo da allargare le braccia di lato rispetto alle spalle ma in realtà uno andrà in avanti e uno di lato e uno indietro busto rotato e di qua fletti le ginocchia e cerca con la mano destra il pavimento per guardare la mano sinistra che si muove verso il soffitto da questa posizione allunga il braccio che sta su verso il soffitto in avanti per tornare al centro con tutte e due le mani e srotola su roll up e ritorna su we will do that one more time to the right and to the left lo facciamo di nuovo a destra e a sinistra quindi fletti a destra lo facciamo direttamente da qui fletti in avanti a rotonda la colonna poi passa a sinistra di qui un braccio da sopra un braccio da sotto apri le braccia e ruota il busto verso sinistra e poi fletti le ginocchia vai giù con il braccio verso il pavimento l'altro braccio verso il soffitto e da questa posizione allunga il braccio seguilo scendi e srotola vertebra dopo vertebra su e di nuovo inspira fletti verso sinistra side bend to the left fletti in avanti poi ancora una volta fletti a destra da questa posizione un braccio da sopra un braccio da sotto ruota il busto e apri le braccia e da qui fletti le ginocchia il braccio scende che davanti scende l'altro braccio sale verso l'alto guarda la mano senti le scapole allunga questo braccio ma non solo il braccio il fianco il torace le gambe tutto in avanti e srotola su una vertebra dopo l'altra fermati un secondo stai nella posizione guarda davanti a te senti lo spazio tridimensionale intorno a te poi fai in modo da avere tutto il tappetino davanti a te so feel that you have the whole mat in front of you inhale you move your arms up allunga le braccia inspirando espirando vai giù direttamente con la schiena lunga andando con il coccige e gli schi indietro so you go with the flat back down to the floor da questa posizione fletti le ginocchia punta le mani allunga la schiena come se volessi guardare in avanti so feel that your back is long even a little bit arched if you feel so and then bend everything down fletti tutto giù la schiena le ginocchia e di nuovo punta le dita delle mani e sempre con le ginocchia leggermente piegate allunga la schiena leggermente e fletti l'ultimo allunga the last one make yourself long in the back but stay with the knees slightly bent and bend completely forward and then walk forward cammina in avanti con entrambe le mani plank rimani nella posizione di plank respira spingi dalle dita dei piedi in avanti per poggiare le ginocchia e allungarti con il petto verso l'alto forma una lunga curva so go forward with your feet and put your heels and your feet down your knees and your feet down arch your back respira porta il bacino indietro punta i piedi piramide you go in the pyramid position bending the knees solleva la gamba destra in alto so lift your right leg up da questa posizione fletti il ginocchio e vai nel plank con il ginocchio al petto going to the plank with the knee to the chest e di nuovo vai su con la gamba verso il soffitto e adesso vai di nuovo in plank ma con il ginocchio verso il gomito sinistro go with the knee right knee to the left elbow in plank e di nuovo vai su con la gamba again up in the pyramid and then put it down again and move the other leg up cambia gamba sinistra su plank ginocchio al petto al centro plank with the knee to the chest in the center then back e di nuovo plank ma con il ginocchio verso il gomito opposto with the knee to the opposite elbow ok di nuovo vai su con la gamba verso il soffitto poggia entrambi i piedi vicini so put both your feet down to the floor push from the heels spingi dai piedi dai talloni e di nuovo estendi la colonna respira porta il bacino indietro apri un pochino le ginocchia e vai nella posizione del fanciullo riposa so go in the child's pose and rest da questa posizione solleva leggermente il busto so lift a little bit your chest and your trunk and go with the left hand underneath your right arm vai con la mano sinistra sotto il braccio destro e ruota se puoi poggia la testa giù senti come le tue scapole le tue costole partecipano nel movimento so feel how your ribs and shoulder blades are rotating and participating to the movement ritorna al centro go back to the center again and change direction cambia direzione rilassa tutto quello che puoi rilassare tieni quello che invece ti serve per mantenere la posizione respira respira tutto il tempo breathe all the time don't stop your breathing ritorna al centro e vai in posizione di quadrupedia in all four position da questa posizione fletti in avanti curva C e poi una U grandissima con la tua schiena so move so move your all spine the whole spine bending forward and arching espira quando fletti exhale when you bend inhale when you arch l'ultimo ok e ti siedi sui tuoi talloni spalle indietro so rotate your shoulders again backward respira allunga ancora una volta entrambe le mani in avanti punta i piedi posizione della piramide morbida again going to the pyramid position allunga la schiena fletti le ginocchia da questa posizione salta in avanti con i piedi verso le mani e da qui poggia i talloni allunga le braccia in avanti oggi i capelli non accompagnano e siedi sul bacino per staccare le gambe da terra so you jump from the pyramid forward and then you sit mani sulle tibie guarda la pancia da questa posizione dondola indietro uno e torna dondola indietro due so roll like a ball backward don't put the head on the floor never l'ultimo the last one sul prossimo vai indietro e spingi sui gomiti in modo da rimanere con il bacino sollevato so on the last on the next one you go backward you push on your elbows and you support your pelvis keep the pelvis in the air rimani con le mani a supporto del bacino distendi una gamba su e l'altra gamba indietro so stretch out one leg to the ceiling and the other leg backward fletti entrambe le ginocchia e cambia una su e l'altra dietro change the legs and again cambia ancora e l'ultimo cambia ok fletti entrambe le ginocchia rilassa i piedi release your feet e prova se puoi ad andare con le gambe tutte e due verso il pavimento dietro di te non è necessario toccare solo se ti senti che puoi farlo so go with both your feet in the direction of the floor if you can touch is ok if not it's ok the same poggia le mani sul tappetino le braccia e facendo pressione sulle braccia per resistere alla caduta piano srotola vertebra dopo vertebra ammorbidendo le ginocchia so bend a little bit your knees push with your hands and arms on the floor and go back with the pelvis on the floor and the legs in the air mani dietro le ginocchia fletti le ginocchia hands behind the knees gambe scendono il busto sale e stai in equilibrio so come into the sitting position with your legs lifted from the floor unisci i piedi lascia le ginocchia in fuori prendi dall'interno i tuoi piedi so hug your feet your ankles from inside with your arms e da questa posizione senti un po' se puoi rotolare indietro e tornare so feel if you can roll in this position rotola e ritorna l'ultimo roll and come back svincola le mani lift your hands and go into the teaser position vai nel teaser lentamente stay there rimani dieci nove rilassa le mani senti se puoi sorridere se puoi respirare 5 4 3 2 1 fletti le ginocchia bend your knees da questa posizione dal bacino cominci a srotolare giù from the pelvis you start to go and roll on your back to stay completely there on the floor e rimani con le braccia e le gambe per aria stay there with your hands arms and feet in the air breathe allarga le braccia poggia i palmi delle mani sul pavimento so open your arms and put your hands on the floor with the palms muovi il bacino leggermente a destra e sinistra go with your pelvis a little bit rolling to the right and to the left la prossima volta che vai a destra rimani lì e prova di stendere una gamba la gamba opposta quindi la sinistra ritorna al centro dall'altra parte stendi la gamba a destra so you go to one side and you stretch out the opposite leg e senti questo movimento fluido quando vai a destra ruota anche la testa sinistra so when you go to one side you rotate the head to the opposite direction l'ultimo ok ritorna al centro mani dietro le cosce inspira exhaling you go up espirando sali di nuovo in una posizione di equilibrio dietro gli schi so stay again in the balance position here rilassa senti che puoi muovere le dita dei piedi le spalle il collo feel that you can move everything your toes your hands your shoulders and neck e da qui prova se puoi a incrociare le gambe so start to cross your legs and feel if you can go forward with your hands senti che puoi andare in avanti con le tue mani per passare saltare indietro e distendere nella piramide going to the pyramid ok e posizione del fanciullo relax child's pose and rest in the position ok ancora una volta punta le dita punta le dita dei piedi torna nella piramide rimani respira allunga in avanti quindi spingi in avanti con i piedi vai nella posizione in avanti come una sorta di swan e questa volta fletti le ginocchia avvicina vai con il petto in avanti la testa verso i piedi so go with the chest forward and up the head a little bit backward closer to the feet then stretch out your knees again distendi le gambe ancora una volta sposta il bacino indietro rimani nella posizione di quadrupedia distendi una gamba indietro e ruota con la gamba di sotto in modo tale da ruotarti completamente di lato da questa posizione poggia il piede sul tappetino e vai ancora di più curva come un'onda verso il pavimento con il braccio sopra quindi vai con il braccio e il busto giù di nuovo con tutte e due le mani giù e ritorna nella posizione di quadrupedia ancora una volta facciamo il contrario cambia gamba distendi questa gamba indietro la sinistra allinea la mano davanti al ginocchio ruota la gamba di sotto ruota tutto il corpo di lato poggia il piede sul tappetino e fletti ancora di più il busto come se volessi sollevare il tuo torace le coste lasciando andare la testa giù e senti da qui che il braccio il torace la testa si muovono verso il pavimento ruota di nuovo nella posizione di quadrupedia con la gamba sollevata ritorna con tutte e due le ginocchia giù siedi siedi sui tuoi talloni poggia le mani indietro e di qua allunga la parte anteriore di te falla diventare più lunga più ampia spingendo con le mani sul tappetino e utilizzando i glutei ritorna giù ancora una volta spingi lascia andare la pancia in fuori e ritorna ok poi piano vieni in avanti come back forward ti siedi ancora una volta sul tappetino come back to sit on the mat allunga le braccia in avanti inspira espirando srotola partire dal bacino so start to roll back from the pelvis stretch out your knees nello stesso momento distendi anche le gambe inspira porta le braccia indietro espirando porta su le braccia arrotonda il busto fletti le ginocchia ritorna nella posizione iniziale inspira come back to the sitting initial position and one more from the pelvis di nuovo dal bacino distendi le gambe e srotola indietro inspira e ritorna su seduta o seduto e l'ultimo inspira the last one e vai su rimani seduto stay in the sitting position e porta in fuori le tue ginocchia so go to the side with your knees put your feet the soles of your feet together and your hands backward le mani indietro le piante dei piedi vicine tra loro e di qua comincia ad andare verso un lato e verso l'altro lato con il tuo corpo quindi le gambe una gamba va verso destra come se volessi toccare il pavimento spingi con la mano opposta e poi l'altro lato dondola da una parte all'altra lascia che le tue scapole si adattino al movimento le tue anche si adattino al movimento ok poi distendi una gamba in avanti so stretch out one knee forward one leg forward porta l'altra gamba opposta oltre quindi incrocia l'altra gamba oltre la destra spostati leggermente con il peso sulla destra e fletti la gamba di base ve lo faccio di fronte quindi da qui mi sposto e fletto ok so from this position I cross one leg and then I move the other foot there e abbraccia il tuo ginocchio opposto con il braccio quindi ti muovi verso il ginocchio che sta piegato davanti a te e ruota il busto allungandoti come se guardassi indietro so rotate and just look backward ritorna distendi l'altra gamba in avanti change exactly the same on the other side incrocia la gamba ti sposti per poter flettere la gamba di sotto quindi usa il bacino per renderti questo movimento facile abbraccia la gamba sposta il peso distribuiscilo come una spirale che si muove verso l'alto e ruota indietro respira breathe feel your spine like a spiral ritorna al centro prendi un supporto qualunque cosa tu voglia o senta necessario per renderti più comoda la posizione non rimanere nella posizione scomoda anche se pensi di non averne bisogno prova a sollevare il bacino incrocia le gambe possibilmente senza intrecciarle davvero senza annodarle tra di loro metti un piede davanti all'altro e senti se le tue ginocchia vanno comodamente un po' più vicine al pavimento o addirittura verso il pavimento poggia le mani sulle tue ginocchia e ruota i palmi verso l'alto so from this position just find the comfortable position for your hands palms up release your hands on the knees the elbows down i gomiti giù e semplicemente comincia a respirare just feel your breath percepisci il tuo respiro e fai qualunque cosa ti possa far sentire più comoda o più comodo so feel everything that can make you more comfortable e senti quanto peso stai scaricando sul lato destro del bacino e sul lato sinistro feel how much weight are you putting on the right and left side of the pelvis lascia che le spalle si appoggino e siano sostenute dal torace feel that your shoulders and shoulder blades are supported by the chest the ribs senti cosa puoi lasciare andare feel what you can and release and let go senti tuoi occhi feel your eyes senti la bocca feel your mouth e senti quale parte di te puoi sentire puoi lasciare che diventi un po' più liquida feel which part of you can you make a little bit more liquid when I say liquid I mean adaptable quando dico liquida voglio dire capace di adattarsi senza resistere e senti anche quanto questa fluidità e questo movimento e questo movimento come un'onda circolare fluido possa anche essere potente fino a scavare la roccia so feel how much this movement fluid and wavy can be also powerful able to change the shape of a rock senti quindi quanto questa fluidità sia potente e non debole sia capace di dare forma feel how much this fluidity is able to give shape to reality to yourself quanto tutto questo possa dare forma alla realtà ma anche a te stessa o te stesso respira breathe mantieni questa attenzione a te stessa alla parte interna di te e allo stesso tempo a ciò che ti circonda come se fossi insieme dentro e fuori di te keep this ability this attention to the inside of you and at the same time to the outside e se hai gli occhi chiusi piano piano trova il modo di riaprirli dolcemente lasciando che la realtà di nuovo entri attraverso i tuoi occhi in te so feel reality that is really coming into your eyes and open them senti le tue mani feel your hands e poi inspira porta su le braccia inhale you bring up your arms and exhale down espira giù ancora prendi l'aria e giù l'ultima inspira unisci i palmi delle mani porta le mani sul cuore grazie so thank you very much for being here with me and I will switch through Italian now so thank you very much for being with me in this lesson and have a nice day grazie di essere stati qui con me ho voluto dare movimento fluidità a questa lezione senza concentrare il movimento su nessuna parte del corpo su nessun tipo di movimento in particolare ma variando continuamente questa per me è la fluidità ed è una capacità meravigliosa che abbiamo di poterci muovere insieme alla realtà insieme all'intenzione senza rimanere focalizzati su una sola qualità ma continuando ad evolverci insieme a ciò che ci circonda dunque questa è stata l'ultima diretta del progetto di maggio dedicato ai quattro elementi della natura ora ci sono un po' di novità per voi mi state chiedendo in molti che cosa farò con i video del progetto io resto in movimento i video della quarantena mi è venuta un'idea ed è per questo che vi darò questa risposta domenica quindi domenica farò una breve brevissima diretta se non ci sarete non importa la lascerò comunque lì quindi domenica perché domenica è l'ultimo giorno in cui in teoria i video sono disponibili sul canale youtube perché vi avevo detto che li avrei lasciati fino a fine maggio quindi domenica vi annuncio che cosa sarà di quei video che cosa ne farò e poi vi dico nel frattempo sto cercando di capire come fare questa cosa che mi è venuta in mente comunque vi dico quindi per quanto riguarda i video io resto in movimento godeteveli intanto fino a domenica e poi saprete che cosa ho deciso di fare domenica ve lo dirò ve lo lascerò lì quindi non sarete costretti tipo piaga a stare con me domenica se non vorrete io farò la diretta per chi vorrà sarà breve non sarà una diretta di lezioni di movimento vi racconterò soltanto che cosa desidero fare e la farò qua su youtube ok questa è una due mi state chiedendo che cosa sto facendo per i corsi pacchetti di corsi da acquistare e ci sto lavorando su ve l'avevo già detto ma ovviamente è un po' di lavoro non è non è un lavoro da poco ma credo di potervi annunciare nei prossimi giorni la data precisa in cui uscirà questo pacchetto di corsi perché in realtà quello che desidero fare è darvi questa possibilità di acquistare i pacchetti in modo tale che abbiate delle lezioni che siano un po' una compagnia dei mesi estivi o di quando vorrete in modo che ognuno possa farli anche quando abbia voglia perché a giugno ancora ci saranno i corsi in videoconferenza e questo ve lo dico tra poco ma in ogni caso ci sono persone che non hanno la possibilità di seguire orari fissi e anche per chi seguirà a giugno gli orari diciamo dei corsi con me comunque a luglio poi io stessa avrò bisogno di maggiore flessibilità e per questo ho deciso di proprio di rendere disponibile il prima possibile quindi entro la fine di giugno vi dirò la data perché sto scegliendo la data giusta i video in modo tale che li abbiate per una pratica estiva quindi questa è una seconda cosa prossimamente vi annuncio la data precisa ho un'idea in mente ma la voglio ancora tenere per me qualche altro giorno perché contemporaneamente sto lavorando anche un'altra cosa un altro progetto creativo sempre legato al canale e a tutti i miei social vari e vedrete e più o meno per la stessa data saremo pronti anche con quell'altra cosa lì non vi dico tutto sorpresa ok quindi questa è un'altra storia terza cosa continuerò con le dirette che cosa farò a giugno su youtube ora siccome non sono ancora pronti i pacchetti di video acquistabili e quindi non vi voglio lasciare perché qualcuno sta tornando in palestra ma io per esempio non sto tornando a lavorare in studio perché non mi piace l'idea di lavorare con la mascherina per varie ragioni eccetera sto facendo continuare a fare lezioni a distanza e molti magari la pensano così quindi voglio darvi questa opportunità cioè non voglio lasciarvi senza pacchetti senza dirette senza niente che cosa fate punto interrogativo allora due cose ci saranno su youtube a giugno prima cosa ci sarà una serie di quattro video con gli attrezzi con i piccoli attrezzi perché me l'avete chiesto tantissimo e fai video con gli attrezzi e ci alleniamo con gli attrezzi sì quindi troverete delle lezioni di 30 minuti video non dirette proprio video che io caricherò ogni sabato su youtube a partire dal primo sabato di giugno quindi dall'altro sabato e saranno quattro video con gli attrezzi ve l'ho raccontato anche nelle dirette eccetera eccetera gli attrezzi saranno la fitball la palla grande la softball che è quella palla lì quella piccina da 26 cm 24 cm quello che è e due bande elastiche di due diverse resistenze io ho creato per chi non abbia questi attrezzi e voglia acquistarli anche dei kit proprio con questi attrezzi che utilizzerò corredati senza tappetino corredati di tappetino e con il tappetino uno così come questo qui e l'altro doppio per chi ha problemi di sacro eccetera e ho messo i video sui vari canali ve li metto anche qui sotto nella descrizione appena finiamo ok quindi avrete questa possibilità questi link eventualmente se avete bisogno di attrezzatura e quindi farò i video con questi attrezzi qua ogni sabato ce ne sarà uno però desidero anche mantenere le dirette con voi per il mese di giugno ancora quindi farò quattro dirette le dirette saranno di martedì alle 18 quindi non mercoledì martedì quindi noi ci vediamo martedì prossimo non ho ancora deciso il tema quindi diciamo che sono aperte a proposte vediamo adesso che nei commenti se magari avete qualche emerge qualche esigenza qualche desiderio particolare vediamo quindi faremo praticamente due lezioni avrete su youtube due contenuti alla settimana una lezione in diretta con me il martedì alle 18 per tutto il mese di giugno e il sabato un video che sarà registrato prima con gli attrezzi questi attrezzi che vi ho detto che magari avete già o magari dovete prendere solo una cosa che vi manca ok e li troverete quindi ogni sabato quindi chi vorrà fare entrambi avrà la possibilità di allenarsi due volte la settimana martedì e sabato con me per il mese di giugno ancora ultima cosa novità e poi vi lascio la parola per i corsi in videoconferenza vi avevo promesso che avrei riaperto le iscrizioni domani mattina a mezzogiorno riapro le iscrizioni per un corso che aprirò il mercoledì sera alle 7 meno un quarto alle 18 e 45 è l'unica fascia oraria che sono riuscita ad incastrare tra le altre lezioni quindi ci sarà quest'unica possibilità il corso sarà intermedio sarà un nuovo un nuovo corso che si è aperto alle 18 e 45 il mercoledì per i nuovi iscritti che non hanno mai fatto lezione con me e livello intermedio ok domani aprirò le iscrizioni di questo corso e le lascerò credo fino a sabato ok ci sarà anche un corso Feldenkrais e il corso Feldenkrais lo apro le iscrizioni le apro venerdì a mezzogiorno il corso Feldenkrais di giugno sarà dedicato alle tensioni cervicali i posti sono ovviamente limitati perché sapete come funziona il corso in videoconferenza ok quindi domani aprirò le iscrizioni del corso nuovo di Pilates per i principianti ci sono dei posti che si sono liberati nei corsi già esistenti quindi domani vi dico tutto quindi se siete principianti base vi potete inserire in uno dei corsi già esistenti ci sono pochi posti ma ve lo dirò quindi creerò un modulo per chi è livello base e si vuole inserire e un modulo per livello intermedio sarà un unico corso stop cioè finito quello 10-12 persone stop ovviamente ragazzi non compilate il modulo che vi metterò domani per chiedermi informazioni ok il modulo serve per già iscrivervi quindi per pre-iscrivervi e poter avere la possibilità di fare il pagamento e quindi iscrivervi se avete dei dubbi e non sapete non compilate il modulo mi iscrivete in qualche altra maniera perché sennò per me diventa tutto più complicato ok quindi solo se veramente volete farlo domani vi cioè compilate il modulo solo se veramente avete già l'intenzione di iscrivervi e aspettate solo che io vi dia l'ok una volta raggiunte raggiunti i posti il numero di posti io chiudo e non si può compilare più il modulo ok quindi questo è quanto mi sa che ho detto tutto e basta credo che tra l'altro i corsi in videoconferenza si fermeranno a fine giugno ora vediamo e riprenderanno a settembre per chi per chi ne avrà voglia probabilmente però diciamo questa è un'altra finestra che vi che vi sto aprendo per giugno sì ora mi sa che ho detto veramente tutto ho parlato anche troppo e vi ascolto un pochino c'è la regia un po' allergica oggi allora ragazzi vediamo un pochino dunque Monica dice io sono per le dirette lezioni in diretta a corpo libero tema per giugno i continenti a te che piace viaggiare mazza questo è difficile ragazzi serena io ti seguo dall'inizio della quarantena per me i video i resti in movimento sono anche un ricordo di un periodo molto particolare oltre che un ottimo allenamento mi affido a te vedrete vedrete ragazzi che cosa è in mente per quei video pina ho guardato la lezione ma lo farò domani poi ti dirò grazie per tutto quello che stai facendo grazie a te pina Roberta grazie per la lezione di oggi anche la musica molto bella sono contenta Roberta Angela sempre presente le tue dirette interessantissime e diversificate ti ho visto su Instagram baciata dal sole c'è un sacco di sole in questi giorni sono troppo contenta spero che manterrai ancora le tue lezioni grazie ancora per esserci allora Maria Rita quella di oggi è la mia pratica preferita più che una lezione è un piacere a giugno non prenderò appuntamenti di martedì fantastico allora Roberta dice fantastico speravo nelle dirette settimanali ma senza attrezzi trovo meraviglioso il corpo libero come fare per sapere i costi dei corsi il costo dei corsi è 50 euro l'ho ottenuto standard per non impazzire per il momento quindi 50 euro per i corsi in videoconferenza sono 4 appuntamenti Eliana bellissima lezione mi sono sentita un'onda quante belle cose che continuo a regalarci sei un tesoro grazie Eliana allora ma inizi martedì 2 giugno che è festa? sì sì ragazzi io sono in Belgio qua non è festa sì penso che che farò lezione martedì sì perché no why not allora Rosetta dice io propongo lezioni a corpo libero come avevi fatto per la quarantena cardiovascolari tonificazione fluidità e bilanciamento mi sembra un bel programma Rosetta va bene ci penso Barbara dice le stagioni mazza ragazzi queste sono sono impegnative da fare Monica hai creato una magia il mio movimento è stato fluido e armonioso ed è il risultato del percorso che abbiamo fatto insieme le tue proposte sono sempre originali e coinvolgenti grazie Monica Anna Lena per martedì alle 18 proposta esercizi per la schiena per la sciatica ok va bene tengo no annoto che ne dici del tema della musica classica rock dance e leggera allora è bello però io non posso ascoltarla quindi è molto difficile per me lasciarmi ispirare da una musica immaginandola e basta cioè lo posso fare però è meno piacevole per me in realtà questa cosa allora a giugno 5 martedì 5 sensi ci penso va bene Rosetta in diretta ci sono Paola bellissimo mi piace sarò presente presente martedì Angela cara Giorgia non possiamo acquistare a scelta le lezioni che hai caricato su youtube vedrete che cosa ho deciso Samantha grazie per la lezione alcuni movimenti mi ricordavano lo yoga sì sono stati presi ispirati allo yoga Claudia è giusto che quando si stende la gamba durante la piramide il busto si gira un po' in direzione della gamba stessa quando stendo la gamba nella piramide ah cioè quando la sollevi di stesa se differenzi il movimento dell'anca quindi rotazione dall'anca non è detto che si debba girare il busto può adattarsi appena ovviamente non è un blocco rigido però non è necessario che si giri completamente Cristina dice oggi ho comprato il kit degli attrezzi grazie bella lezione rosetta sono d'accordo anche io la lezione in palestra non ci vado ormai sono fissa con te su youtube fantastico Lorena ogni volta un viaggio diverso grazie Lorena canzoni per i bimbi no ragazzi canzoni per i bimbi non lo so se ce la posso fare anche perché non le conosco Giovanna non riesco a seguirti alla fine quando fai il rilassamento o mi addormento o penso a cose mie perché e poi scricchiolo insomma un disastro no non è un disastro se ti addormenti va bene ti sei rilassata se pensi a cose tue è normale nella meditazione o nel rilassamento guidato a volte la mente è difficile da placare e il lavoro diciamo l'esperienza è proprio quella di riportarla al presente quindi abbiamo letto altre volte altre cose riguardo alla meditazione l'idea nella meditazione non è riuscire ad essere lì in quello stato meditativo ma provarci quella è l'idea a che ora domenica la diretta bella domanda ragazzi non l'ho ancora deciso ve lo faccio sapere perché c'è un po' di un po' troppe decisioni tutte insieme da prendere ve lo ve lo comunico non vi preoccupate la programmo prima così la vedete vi arriva l'avviso se siete iscritti ovviamente vi arrivano gli avvisi ok ho ordinato il kit spero che arrivi per il 6 non vedo l'ora dice Cinzia yes Rossana Patrizia ah Patrizia ho già risposto come il tappetino nuovo che ho usato stasera fantastico Simonetta mi è piaciuto tanto perché è sottile ma non è sottile come i tappetini di yoga alcuni che sono veramente da un millimetro due millimetri sono molto molto piatti a terra senti proprio il pavimento questo ha comunque una possibilità di ammortizzazione quindi io che ho le vertebre sporgenti quando rotolo non sento niente non mi fa male quindi mi sono trovata molto bene e soprattutto ha un grip molto buono cioè il tappetino almeno sul legno di questa casa non scivola quindi se se voglio fare cioè vi faccio vedere cioè io non riesco a muoverlo il tappetino anche volendo questo qua invece vi ricordate che era il mio vecchio questo più facilmente scorre si muove anche questo è abbastanza stabile ma si muove questo proprio non ce la faccio non si muove state attenti al tappetino se comprate il tappetino quello spesso da un centimetro e mezzo quello scivola a terra quindi magari metteteci sotto qualcosa quindi attenzione se fate cosa in piedi in cui camminate sul tappetino fate attenzione Paola bellissima notizia Romina ero fluida come un pesciolino Pavitar bellissimo davvero una grande lezione sulla fluidità grazie Pavitar è volata questa lezione Teresa anche per me è volata grazie perché sono riuscita a staccare e ne avevo bisogno yes Rosetta l'abbiamo già letto Simonetta Nicola yeah thank you Georgia my favorite Pilates instructor thank you Nicola Nicola do you speak Italian as well? Cinzia grazie a te Georgia mi hai cambiato la giornata grazie ragazzi mi era mancato il tuo modo di insegnare la bellezza del movimento grazie Caterina Maurizio yeah un abbraccio a te Barbara Manuela Claudia Patrizia Margherita Maria Grazia Veronica siete tanti ragazzi Paola Rosita Rosita Stefania troppo difficile la lezione di oggi ci vogliono forze ed elasticità mi sento come il meglio di Obelix vabbè Stefania pezzettino alla volta magari dedicherò le prossime lezioni le farò vabbè vabbè ma ci penso allora Rita dice lo farò domani con calma Enrico arrivata adesso lo farò domani dice Lucia bellissima playlist sono contenta che vi piaccia le tue piantine ogni settimana diventano più grandi si stanno gli avocado stanno prendendo piede allora vediamo un posto giù allora comprato proprio quello al tuo dice Lorella yes ho perso i consigli sulla marca degli attrezzi mi aiutate allora Maria Grazia c'è una diretta sempre su youtube di ieri la marca degli attrezzi è Sissel si chiama però c'è una diretta in cui spiego tutto quanto riguardo agli attrezzi l'ho fatta ieri e la trovi sul canale youtube se vai sugli ultimi video pubblicati la trovi anche su altri canali facebook eccetera ho pubblicato un po' di questi contenuti ma c'è proprio una diretta è nella descrizione se non vuoi vederla perché non c'hai tempo non c'hai voglia non ti interessa nella descrizione quindi se apri nel video sotto ci sono tutti i link e tutto quanto spiegato ok allora vediamo ultimi commenti Dio Giuseppe grazie per questa bellissima lezione ottima notizia quella dei pacchetti a pagamento che vorrai pubblicare sei la migliore istruttrice dei pilates che ho avuto grazie Giuseppe grazie Maria Grazia Sara ogni giorno un passo verso la consapevolezza grazie Serena Simonetta anche per me è importante che non si muova sì è molto importante però se avete quello doppio per altre esigenze lo potete comunque in qualche maniera fermare però quello è molto ammortizzato vi aiuta tanto se avete fastidio al coccigeno anche i video del sabato posso vederli quando posso e certo sono pubblici su youtube rimangono lì nel canale quindi rimarranno là kit degli attrezzi dove nella diretta precedente a questa quella di ieri la trovate c'è tutto sotto ve li rinserisco anche nel video di oggi appena finiamo va bene Roberta io mi affido la tua bravura e sensibilità inoltre adoro le tue sorprese va bene ci penserò su allora vi piace il programma di giugno yes ah Manuela sarebbe bello fare con i sentimenti amore gioia eccetera mi piace mi piacciono tutte le idee che mi avete dato ragazzi devo solo capire come realizzarle quale è più fattibile quasi una danza questa pratica dice Carlotta contenta per i prossimi appuntamenti i video del martedì saranno a corpo libero sì non saranno con gli attrezzi video del martedì quindi le dirette saranno senza attrezzi e poi troverete i video registrati con gli attrezzi in Italia la festa della repubblica e vabbè ragazzi ma tanto poi la potete fare in un altro momento e sì tema di giugno i momenti della giornata alba giorno tramonto e notte un'idea anche questa idea mi piace un'idea per il tema delle dirette potrebbe essere inerente al respiro ah ecco che cosa mi ero dimenticata questo sabato quindi ancora maggio vi pubblico un video sul respiro ok quindi sabato ci sarà un video dedicato al respiro non sarà una diretta sarà un video che potrete fare quando vorrete ve lo metto sabato ok non sarà molto lungo però volevo dedicarvelo da un po' di tempo mi piacerebbero tutte lezioni de fuego come l'altra volta dice Laura bellissima opportunità il martedì il sabato anche ottima idea il pacchetto estate meglio senza attrezzi il martedì lavorare su diverse parti del corpo che di solito hanno problemi lombari spalle eccetera ok Alessia temi per giugno tonifichiamo sto addome va bene Angela sempre presente le tue dirette ah sì questa l'abbiamo già letta prima Matteo cambia canale se non ti piace Patrizia vorrei sapere quanto costa la raccolta dei video io resto in movimento lo scoprirai domenica idea per giugno focalizzare le varie parti del corpo spalle gambe glutei schiena braccia mani ok mioga da istruttrice di pilates ti faccio tanti tanti complimenti hai un modo di fare pilates unico grazie 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 ma mioga ma sei Vanessa vabbè mi è venuto Samuela grazie per la lezione grazie a te ah Nicola yes I speak italian tu si parlo anche italiano ma sono troppo british va bene va bene Nicola grazie ragazzi allora tonifichiamo sti glutei dice Serena va bene allora tanto questi questi commenti rimangono quindi me li posso riguardare quindi prossimo appuntamento rapido 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 vabbè domani con le varie iscrizioni per chi avrà voglia di iscriversi sabato verrà fuori il video cioè pubblicherò il video sul respiro domenica vi dirò che cosa farò con i video io resto in movimento e per la diretta ci vediamo martedì prossimo quindi ragazzi vi ho detto che non vi abbandonavo alla fine mi dovrete cacciare direte basta basta ok quindi insegno yoga ah ciao Giorgia sono Cinzia dice mi yoga ok insegno yoga e pilates ok piacere di conoscerti allora collega Matteo respiriamo insieme yes grazie Paola approvo il tonifichiamo ci dice Roberta lo so che state pensando alla prova costume al mare a tutte quelle robe là poi c'è un video se voi cercate sul mio canale un video la vera ed unica prova costume vi parlo di come la penso su questa cavolo di prova costume o comunque ragazzi vi mando un grande bacio grazie per essere stati ancora con me oggi e ci vediamo nei prossimi giorni cercherò di comunicarvi nella maniera più semplice possibile e sto lavorando anche per aggiornare il sito in modo tale da creare le varie pagine possiate seguirmi anche di là un bacio tanto grande fantastica lezione sto sonpettando per casa come un delfino che salta nell'acqua dice Alessandra sono contenta che vi sia piaciuto un bacio grande e buona serata ragazzi a presto ciao ciao